Anche Pizzaioli Veraci è passata alla spunta. Hanno tre sedi, noi siamo stati a quella di fuori grotta, di sabato sera, con lista d'artiste. I tempi sono stati brevissimi, nonostante le tante prenotazioni che c'erano. La location è su due piani. Il personale è molto gentile e accodiente. Il servizio è veloce. Una pizza classica, un pasto morbido e sottile. Prodotti veramente buoni. Le forme estetiche lasciano un po' a desiderare. Ma il gusto compensa ampiamente. Parlano bene anche della gluten free, ma non posso dare in questo caso il mio parere. I prezzi sono nella media. Pizzaioli Veraci promossi. Appresso per altre recensioni e seguimi anche su Instagram. Ciao. Ciao.